Non confidare nelle tue ricchezze e non dire basto a me stesso, non seguire il tuo istinto e la tua forza assecondando le passioni del tuo cuore, non dire chi mi dominerà perché il Signore senza dubbio farà giustizia, non dire ho peccato e che cosa mi è successo perché il Signore è paziente, non essere troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato, non dire la sua compassione è grande e mi perdonerai molti peccati perché presso di Lui c'è misericordia e ira e il suo sdegno si riverserà sui peccatori, non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato.